Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Minecraft Riprendiamo da dove ci eravamo riusciti nello scorso episodio Episodio durante il quale avevamo tirato su la nostra villa Savoyer Avevamo tirato su fino all'inizio del secondo piano Come vedete ho fatto delle modifiche Innanzitutto ho sistemato un attimo qua sopra Dove c'è tutta la vetrata del nostro ingresso Bellissimo secondo me Aggiungendo appunto dei listelli di quarzo levigato Poi la cosa più palese che già si nota immediatamente è l'illuminazione Esattamente come avevamo fatto per l'Imperial Hotel Anche qua ho utilizzato la luminite per illuminare gli interni E naturalmente sopra ci ho messo come vedete il tappeto magico Dove vedete il tappeto qua sul bordo proprio c'è tutta l'illuminite Stessa cosa anche sull'altro lato Questa texture così randomica pensavo di proporla per tutta la pavimentazione del piano terra Con un pattern appunto piuttosto casuale L'altra modifica è appunto la scala Come avevo detto avrei fatto la scala off camera E così è stato Ho allargato il corpo centrale tanto di spazio Ragazzi ne abbiamo quanto ne volete Quindi abbiamo fatto allarga due cubotti Qua ho fatto una specie chiamiamola di balconcino Con quattro blocchi di vetro E qua appunto arriviamo al secondo piano Che sarà oggetto del video di oggi Non so onestamente quanto farò Perché come vedete è enorme Ricordo sempre Questa è una serie ibrida Lego più Minecraft Vado a riproporre i set architecture della Lego Appunto nel mondo di Minecraft Poi ho già pensato al prossimo progetto futuro Ce n'è uno che porterò con diversi video Che è molto carino Tra l'altro è un set che non esiste Cioè la Lego non l'ho ancora fatto Vengono chiamati MOC Quindi sono dei progetti che degli utenti Appassionati di Lego Creano apposta Ed eventualmente lo postano online E eventualmente la Lego prende in visione Magari un futuro prossimo li va a realizzare Quindi questo è un progetto che l'ho trovato Perché era un edificio Chiamiamolo edificio tra virgolette Molto figo Anche piuttosto semplice da fare Credo Si vedono tante immagini di questo progetto Da diverse angolazioni Quindi secondo me per me è anche molto più facile farlo Mentre per altri c'è salutata una fotografia Se vuoi avere le istruzioni complete di pagare Non so perché Vabbè Comunque invece Un altro progetto Che è quella sorpresina Che avevo accennato due episodi fa Se non vado errato Che verrà fatto dietro al nostro hotel Quello lo farò off camera Detto ciò iniziamo Blocco di quarzo legato Dobbiamo fare tutto muro Là 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 E qua Tranne quel lato là in fondo Perché sarà un po' diverso Via di time lapse Allora In questo caso Per un po' su questo lato C'è Credo un parapetto Ricordo anche che Utilizzo Naturalmente delle istruzioni Prese dal sito della Lego In questo caso Della villa Per la villa Nello specifico Ho raddoppiato Tutte le misure Per l'asse X E l'asse Y L'asse Z No O comunque In base a quello che devo andare a Costruire proprio nello specifico Vado a inserire la pietra legata Mamma mia Per un Per un po' suolo Per un po' suolo In questo caso Per un po' suolo Vado a inserire la pietra legata Vado a inserire la pietra legata ok ragazzi ho riempito questa parte di pietra levigata l'abbiamo dei mattoni abbiamo creato, credo che siano diverse stanze eccetera non lo so onestamente comunque è il materiale di finitura ora ho dimenticato qua alcuni mattoni di pietra intanto ragazzi volevo ricordare che devo cambiare pagina aspettate di iscrivervi al canale seguire tutte le istruzioncine che ci sono qua sotto dai ragazzi che stiamo a poco a poco lentamente stiamo crescendo e la cosa mi fa molto piacere ah un'altra cosa vi ricordate che nel video scorso ho aiutato se si attiva sempre o il verso di una gallina oppure quello di un pulcino si che ve lo ricordate perché avete visto l'episodio sicuramente ho ucciso quella fottuta gallina quel fottuto pulcino perché non ce la facevo più erano nascoste nel lato là in fondo che adesso vedete zoomato sotto naturalmente sotto proprio il piano della casa perché veramente mi stava trappanando il cervello e non ce la facevo proprio più durante i time lapse non dà fastidio ma il problema è che per me che registro che registro un video due ore due ore sentiremo il pulcino che fa pio pio e non quel pio pio lì dai ok ragazzi questa cosa qua che vedete che sembra brutta poi andiamo bene a modificarla è in quel pezzo dovrebbe essere un trapezio rettangolare qualcosa del genere larghezza 1 e lunghezza 4 però ovviamente in mancaft non possiamo fare superfici in diagonale e quindi è ovvio che l'unica soluzione è questa qua ok qui inizia un piccolo problema nella costruzione originale non c'è ma io qua ho il buco della scala a parte che ho sbagliato ragazzi ho sbagliato oddio il panico dobbiamo cercare di capire un attimo la situazione provo a fare una cosa ho abbassato di 1 la scala di un blocco naturalmente adesso vediamo se allungando qua proviamo a chiuderlo ok qua ci passiamo tranquillamente e mi piace effettivamente bello perché non possiamo avere il buco qua si inapro ovviamente ragazzi qua si fa stracomplesso porca puzzola perché io in teoria dovrei sarebbe così poi giro salgo qua giro salgo qua e poi qua devo farci un'altra rampa mamma mia che casino allora ragazzi ci aiuta per fortuna avere una superficie abnorme allora qua non posso fare sta cosa aspetta ok questo lo lasciamo in questa maniera e devo un po' riempicare la scala che ho fatto prima ok ragazzi per ora l'ho fatta così è brutta da vedere ma dobbiamo aspettare a a completarla tutta perché qua adesso infatti mi dice di mettere un vetro ok ho messo il vetro così e ho sistemato come vedete anche questo lato ok ragazzi l'ho sistemato in questa maniera che è molto più bella ragazzi stiamo riprogettando Villa Savoyer allora qua mi chiede di mettere credo che siano delle piante perché nelle istruzioni sono dei pezzi verdi quindi immagino che siano delle piante andiamo a fare una cosa un po' un po' carina allora mi metti queste due per creare un po' di colore ci sta benissimo secondo me sta benissimo ragazzi guardate che bello il tramonto la nostra villa che prende un po' forma qua grandi architetti questa zona qua grigia è il terrazzo ora c'è da fare tutta una vetrata bellissima mamma mia tutta una vetrata qui e Ora vado a chiudere qua. Ok ragazzi, allora qua adesso inizia a chiedermi di mettere i vetri. La situazione è questa qua. Adesso tralasciate che ci sono dei vetri molto più alti, ma lì dovrò bene studiarmela. Anzi è molto probabile che questi vetri che adesso ho messo li alzerò ancora di uno. Ho aggiunto questa parte qua. Questo è un tipo terrazzino privato. Andiamo a finire con i vetri. Ragazzi, faccio così. Adesso vado a togliere l'ultimo strato di quarzo levigato, quello più sottile. Ci vado a mettere il vetro e un paio di pilastri e ci salutiamo. Ho fatto un po' di modifichine anche là in fondo. Ho messo invece del prismarino, ho messo proprio le piante. Perché secondo me sono dei tipo vasi, non lo so. Comunque noi li rendiamo di vasi anche perché è talmente grande a casa che se seguissimo le istruzioni paro paro della Lego, tanto che verrebbe orribile, ma poi verrebbe proprio vuota. Io, ripeto, non voglio arredarle, mettere cose simili, mobili. Però comunque andare ad aggiungere quei piccoli dettagli che, diciamo, la colorano. Per ora sono arrivato a questo punto che non è affatto male. Intanto lo andiamo a completare. Successivamente, come dico sempre, off camera andrò a fare dei piccoli dettagli. Per esempio questo qua per me è un piccolo terrazzino. Tutta questa parte qui sono interni. Quindi si passerà di qua, a parte il pecorone da panico, e in realtà qua c'è l'apertura. Poi da qui si potrà invece, andrò a eliminare un po' questa parte qui e si accederà al terrazzo che è tutta questa parte qui ed eventualmente ci vado a mettere proprio qua contro. Una siepi piuttosto bassa. Adesso questo è un esempio, ma avete capito perché siete più intelligenti di me. Comunque, adesso andiamo a vedere da lontano come l'effetto. Ma ragazzi, è veramente bella. Sta venendo veramente bene. Adesso è molto più particolare. Vediamola dal nostro punto di riferimento, cioè che è l'hotel, proprio l'alterrazione. A parte che sta laggando. Stava venendo su qualcosa di meraviglioso, secondo me. E non vedo l'ora, nel prossimo episodio, di andare a chiudere il tetto e operare proprio sul tetto. Perché anche il tetto, che sarà probabilmente l'ultimo episodio, ha due strutture. Onestamente, nella realtà, non lo so cosa ci sia dentro. Forse sono adibite a zone con i motori dell'aria condizionata, forse impianto idrico, solare. Non lo so, onestamente. Non sono mai andato a Villa, savo io. Noi gli andiamo a dare un valore. Magari sarà tipo una torre vedetta, per vedere ancora più dall'alto, non lo so, la casa, il tetto. Non lo so, ragazzi. Vedremo, vedremo negli episodi successivi. Quindi, innanzitutto, vi ringrazio per aver visto questo video. supportatemi con dei like. Se siete nuovi, eventualmente, iscrivetevi, che mi fa tanto piacere, così mi conoscete, vi vedete tutte le altre playlist. Come vedete, io in ogni video, in ogni serie, lascio soltanto alla fine tutta la playlist che potete andare a cliccare. Dovrebbe essere qua, fra poco. In basso a destra, quindi di qua, c'è invece l'icona per l'iscrizione. E da Force Class, Oli Pasquali, vi mando un grossissimo saluto e noi ci vediamo a un prossimo video che è domani, oggi, non lo so. Ciao a tutti, ragazzi.